La guerra tra clan prevede nuovi colpi bassi, ma anche nuove alleanze nel nono e decimo episodio della terza stagione di Gomorra la serie, in onda venerdì prossimo, 15 dicembre, alle 2115 su Sky Atlantic, Ciro Marco Damore e Jenny Salvatore Esposito devono affrontare i confederati per cercare di mantenere il potere. Il settimo ed ottavo episodio, dal punto di vista degli ascolti, hanno permesso alla serie di salire le puntate hanno infatti avuto una media di 974.000 telespettatori, in aumento del 30% rispetto alla settimana scorsa. In particolare, il settimo episodio è stato visto da 1.010.000 persone, mentre l'ottavo da 938.000 telespettatori. La permanenza, invece, è stata dell'88%. Nei sette giorni, invece, il quinto e sesto episodio, andati in onda contro il match Napoli-Juventus, hanno ottenuto una media di 1.700.000 persone. Tornando agli episodi in onda la prossima settimana, i protagonisti dovranno trovare nuove alleanze in vista della guerra tra clani in cui ormai sono anche coinvolti Enzo Arturo Muselli e Valerio Loris e De Luna. Nel nono episodio, Ciro alla luce degli ultimi avvertimenti decide di raggiungere Ostregone Carlo Cercello, per chiedergli un armistizio. I confederati accetteranno le sue richieste, ma in cambio di qualcosa. Nel decimo episodio, invece, Jenny, ormai sotto scacco, manda Patrizia Cristiana Dell'Anna dai confederati per capire le loro condizioni. Gomorra 3, puntata 15 dicembre 2017 Come vederlo in streaming? È possibile vedere Gomorra 3 in streaming su Sky Go, e sull'app per tablet e smartphone, mentre dal giorno successivo sarà possibile vederlo su Sky On Demand. Gomorra 3, puntata 15 dicembre 2017 Second Screen Si può commentare Gomorra 3 su Twitter, usando l hashtag Gomorra 3 Tweet riguardo Gomorra 3